Beonudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Benvenuti al meteo. Una perturbazione si avvicina al nostro territorio. Vigilia asciutta ma piuttosto uggiosa. Peggiora poi il giorno di Natale. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto non si escludono delle schiarite ma cielo come vediamo in prevalenza coperto. Sulla pianura sono attese nebbie e foschie localmente anche fitte. Qualche schiarita sui monti ma anche qui maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. In serata e nella notte tra venerdì e sabato prime precipitazioni. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero, massime, comprese invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino avremo qualche parentesi soleggiata. Più nubi con il passare delle ore e in serata occasionali piovaschi. Temperature minime tra lo zero e i 5 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sui settori meridionali qualche foschia e qui durante la serata avremo anche qualche pioggia. Tanto sole altrove. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.